Salve amici tifosi dei Bills, un breve video per raccontarvi una cosa che è successa una decina d'anni fa che forse non tutti ricordano. Carolina Panthers, che dobbiamo tenere d'occhio per come si sviluppano i Bills, ricordano molto lo sviluppo del Carolina Panthers di dieci anni fa. Allora, nel 2013 i Carolina Panthers vincono la division e 12 vittorie in regolazione in stagione, Cam Newton pro bowler, ottima squadra, però perdono al division al playoff con San Francisco. L'estate cedono il loro miglior ricevitore, Stevie Smith, che è storico ricevitore dei Panthers. Nel 2014 Carolina è una squadra meno vincente, ha un record perdente ma vince comunque la division che è terribile, bruttissima da vedere. Vincono comunque la partita del wild card game contro i Cardinals e poi perdono al divisional contro Seattle. 2015, infine, dopo la ricostruzione, dopo aver lavorato sul Salary Cup, aver ricostruito, aver cambiato la squadra, Carolina, i Carolina Panthers hanno un record di 15-1. Vanno fino al Super Bowl, il Super Bowl lo perdono come ricordate con i Denver Broncos, Von Miller MVP, l'ultima vittoria di Peyton Manning, ma chiaramente una vittoria della difesa dei Denver Broncos. De Marcos Ware e Von Miller ci sono mangiati la linea offensiva di Carolina e Panthers. Però la squadra rinnovata di Carolina, dopo aver svecchiato il roster e alleggerito la situazione della Salary Cup, fa 15-1, va al Super Bowl ed è una squadra totalmente incentrata su Cam Newton MVP, su Jonathan Stewart pro bowler running back e su Greg Olsen pro bowler tight end. Vi ricorda qualcosa questa impostazione? Non sarebbe male se andassero le cose così, no? Un anno di ricostruzione ai playoff e poi il volo al Super Bowl, che secondo me è quello che stanno sperando di costruire i Bills. Un anno di passaggio comunque vincente nel 2024 e l'assalto totale nell'era Josh Allen nel 2025. Vedremo!